www.malizopoli.it Rating di sostenibilità e accesso al credito per le piccole e medie imprese Il MEFA ha messo a punto un documento con 45 indici di sostenibilità per le piccole imprese che le stesse potranno utilizzare con l'affinità di evitare maggiori difficoltà proprio nell'ambito dell'accesso al credito stesso e anche per monitorare, contenere il costo del denaro a questi finanziamenti. 17 di questi indici avranno priorità 1, quindi sono più importanti degli altri l'importanza della governance, l'importanza delle procedure di anticorruzione a sua particolare importanza anche il codice etico e il modello 231 e anche la disparità di genere all'interno delle aziende vi porto poi qui l'articolo è fondamentale per le imprese iniziare questo percorso per questo impatto di ESG per quanto riguarda l'accesso al credito una buona lettura e alla prossima